Prima ha detto che ci sono persone che la conoscono bene. Perché ho la sensazione che non sia vero? Signor Gray, il suo meeting è in sala conferenza. Lo cancelli, prego. Non abbiamo finito. Sì, signore. No, io... Aspetti, posso andare, non fa niente. Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Ha detto che studia letteratura inglese. È grazie a Charlotte Bronte, Jane Austen o Thomas Hardy che si è innamorata della letteratura. Hardy. Avrei detto Jane Austen. Che progetti ha dopo la laurea? Penso di arrivare agli esami per ora. E dopo? E dopo vorrei trasferirmi qui, a Seattle, con Kate. Noi offriamo un'eccellente internship. Non credo che sarei adatta qui. Mi guardi. La guardo.